Bene, allora oggi siamo in collegamento con Guido Porro, produttore a sera lunga ad Alba, tradizionalista credo piuttosto puro si può dire, e chiederei subito a Guido di raccontarci un po' la storia della sua azienda. Ciao Guido, benvenuto. Ciao, ciao. Allora, la nostra azienda è nata circa nel 1900 da mio nonno, e ad oggi siamo praticamente con la quarta generazione, che sarebbe mio figlio Fabio. Come dicevi prima, l'azienda tradizionalista, abbiamo otto ettari di vigneti tutti in sera lunga ad Alba, suddivisa in cru, l'azzarito, che produciamo Barolo Santa Caterina e Barolo Azzairasco. Poi abbiamo il Barolo Gianetto Clou, e poi l'ultimo arrivato è il Barolo Vigna Rionda. Perfetto, quindi hai già parlato delle vigne, la storia è molto sintetica, però appunto anche la nuova generazione è pronta per entrare in azienda. Raccontaci magari un po' la differenza tra le diverse vigne che hai, no? Alla fine sono tre sul versante che guarda il sole del pomeriggio, e il Gianetto che invece guarda la zona est. Sì, esatto. Il Gianetto è un'esposizione sud-est, praticamente è un sole del mattino, un Barolo più pronto, più fresco, perché comunque il terreno è sempre argilo calcareo, strutturato, però c'è una piccola, diciamo, vena di sabbia che lo tiene un po' più soffice, un po' più leggero. Poi abbiamo, vabbè, il Santa Caterina, cambia esposizione, cambia un po' più alto, è un'esposizione sud-ovest, e il terreno è argilo calcareo, come la Zairasco, la Zairasco è un'esposizione sud, un po' leggermente più bassa, e poi abbiamo il Vignarionda che è anche argilo calcareo per il terreno, che è molto ricco di microelementi e di struttura, e l'esposizione è anche questa qua su. Quindi alla fine le vigne, forse, che più associamo al tuo nome, ovviamente la Zairasco e Santa Caterina, quelle storiche, Gianetto è arrivato qualche anno fa, e poi ha preso in eredità la Vignarionda, che è ancora giovane, però destinata magari a diventare... a crescere, speriamo. ...vigna famosa, e quindi ti hai lavorato molto per tirare fuori anche un vino speciale. Ma ti chiederei anche, non sei certificato biologico, però comunque lavori sempre in modo attento e senza l'utilizzo di punta. questo è sempre così? Noi non abbiamo mai usato diserbanti, abbiamo sempre fatto diserbi meccanici, prima con certe attrezzature, adesso con l'innovazione abbiamo altre attrezzature, sempre più all'avanguardia, meno faticose da usare, però comunque sempre lasciando inerbimento quasi tutto l'anno, tranne dopo la vendemmia in autunno che facciamo proprio la rottura dello strato superficiale del terreno. Sì, perché anche con gli anni, con i mezzi agricoli che abbiamo, per non, diciamo, compattare troppo il terreno e avere poi dei problemi di penetrazione dell'acqua, di queste cose qua. Allora in autunno facciamo proprio la non aratura perché è impossibile, però con un ripple andiamo in profondità per rompere questo strato superficiale di terreno. Perfetto, infatti sei un personaggio che si trova più facilmente tra i filari e non tanto davanti magari ai social network o in qualche fiera, sei sempre rimasto molto legato alla vigna. Raccontaci magari il tuo percorso personale, come quando hai iniziato a lavorare in vigna, in cantina e quando invece hai iniziato a prenderti cura in prima persona dell'azienda. Io essendo nato 52 anni fa qua in azienda, diciamo, ho sempre vissuto l'azienda, fino a negli anni 90. Poi dagli anni 90 mi sono inserito un po' di più fino nel 96, che mio papà praticamente ha passato la gestione dell'azienda a me. Nel 96 ci sono state un po' di variazioni, nel senso, mio papà faceva un unico barolo della Zairasco e di Santa Caterina. Io nel 96 ho detto, ma perché non proviamo a dividere i diversi vigneti? E così abbiamo fatto. Nel 97 è nata la divisione della Santa Caterina e della Zairasco, avendo solo quei due lì. Poi il Gianetto l'abbiamo acquistato la prima annata che siamo usciti nel 2011, l'abbiamo acquistato nel 2008-2009, questo è il vigneto qua, e nel 2005-2006, perché poi abbiamo l'accento lì. Nel 2005-2006 abbiamo acquistato il Gianetto, nel 2011 siamo usciti come prima annata con il Grugianetto. E poi dopo l'ultimo, il Vignari Honda, l'abbiamo avuto nel 2000, fine 2010-inizio del 2011, e di lì poi siamo usciti come prima annata nel 2014. Niente, come vinificazioni, come affinamento, come dicevi te, io sono tradizionalista, praticamente la nostra vinificazione è una vinificazione molto lunga, nel senso dipende un po' dall'annata, ma sono un minimo 15-20 giorni di fermentazione con due-tre rimontaggi giornalieri. Praticamente prendi vino di sotto e lo putti sul cappello per l'estrazione. Cinque anni fa abbiamo acquistato delle botti in inox, praticamente sono tozze, sono due metri e quaranta di diametro per un metro e cinquanta d'altezza. C'è un bello scambio, perché comunque abbiamo il cappello che è molto più sottile, come spessore, e il contatto con il mosto è superiore. è finita la fermentazione di 15-20-25 giorni andiamo a svinare, lasciamo decantare sempre in acciaio e poi a febbraio, parà marzo, quando andiamo a togliere dal legno il vino che andrà poi imbottigliato da nate al barolo, dopo tre anni in legno metteremo l'annata nuova. e lì ci rimarrà per circa tre anni. Perfetto, quindi ovviamente il barolo di grande classicità e immagino che quello che cerchi lì è un po' anche la longevità, l'eleganza, perché i tuoi vini non sono mai sovraestratti. ma soprattutto il terroir, la mineralità, la naturalezza di cosa dà quel terreno lì, di quel vigneto lì, proprio la caratteristica specifica di cosa esce da quell'appezzamento lì. Perfetto, così infatti dovrebbe essere per il barolo, penso a piccoli fazzoletti di terra anche molto vicini l'uno all'altra ma con le differenze molto marcate. le tue vini è piuttosto evidente anche quest'anno. Come mai, visto che Santa Caterina e Lazzarasco alla fine fanno parte della menzione per Lazzarito, questi nomi specifici come quando sono nati? Sono nomi storici che non so da quanti anni esistono. Erano i specifici nomi di quei vigneti lì. Praticamente da quando sono nati quei vigneti lì sono sempre chiamati così. Capisci? Io adesso dirti dall'origine, non la so, dell'Azzarasco. Essendo l'area Lazzarito, diciamo, era un nomignolo derivato dall'Azzarito, Lazzarasco. Invece Santa Caterina qua ai tempi c'era una piccola chiesetta chiamata proprio Santa Caterina, cosa che si trova sulle cartine geografiche. Praticamente dove ho l'azienda io, la casa io, c'era una piccola chiesetta. Poi dopo, durante la guerra è stata abbattuta, è stata bombardata e poi mio nonno fa costruire la casa. Infatti magari è una cosa che succede spesso quando si creano le menzioni dell'innovazione delle vigne ufficiali. Si perde magari un po' la diversità che ci sono delle zone con nomi un po' più rappresentativi che inglobano anche piccole vigne a fianco con magari che in passato erano dei nomi specifici e magari in realtà rende anche un po' più facile per il consumatore però appunto magari si perdono un pochino di dettagli. Però tanto noi sappiamo che queste vigne fanno parte dell'Azzarasco e sono dei nomi molto specifici legati alla tua azienda. Adesso fai quattro crui diversi ma fai anche tutti e tre i classici di Langa in versioni più semplici e immediate. Come fai le vinificazioni per i vini Dolcetto, Barbera e Nebbiolo che escono piuttosto giovani? Uguali praticamente però l'unica differenza è che non fanno legno né Dolcetto, né Barbera, né Nebbiolo. rimangono o in acciaio o in cemento. Però comunque la fermentazione sicuramente è più ridotta sul Dolcetto, Barbera perché sarà di 10-12 giorni, massimo 15 giorni, non di più. Il Nebbiolo invece è anche Nebbiolo di conseguenza è effettivamente esattamente come il Barolo, la fermentazione. Poi, Barolo ha la sua strada verso il legno. Lui ha la sua strada verso l'acciaio, il cemento. Perfetto, poi alla fine non è mai cambiato tanto la tua azienda, sei sempre rimasto molto fedele al tuo stile. l'unica cosa che avete fatto è ampliare un po' la cantina di recente e di ristrutturare anche l'agriturismo, giusto? Sì, pian pianino, ogni tanto quando hai due soldi fai che a spenderli, investi in azienda e finito lì. Poi ti fermi di nuovo per un po'. Perché alla fine, vabbè, siete in una posizione sicuramente molto panoramica, molto bella e anche pregiata a livello di vigne. Proprio la vostra terrazza si affaccia sulle vigne di Santa Caterina Lazzarasco con il castello di Serralunga alle spalle, quindi molto scenografico. E invece da sempre, ora da tanti anni, gestite qualche camera, no? Tu e tua moglie. 20 anni, per me da 20 anni. Abbiamo aperto il primo agriturismo in Serralunga nel 2000. Bene, quindi anche lì un bel primato. E oltre te e tua moglie, chi lavora in azienda adesso? Anche tuo figlio è già rientrato. Adesso mio figlio, quest'anno ha finito la sesta enologica, adesso non so se ha voglia di fare ancora tre anni in università o se vuole iniziare a fare delle cosette in azienda. Io spero che continui tre anni in università, però faccia lui la decisione, altrimenti si fermerà anche lui e mio papà mi dà una mano. Perfetto, il papà ha una certa età, se non mi ricordo male, ha già tante vendeglie. No, ha 82 anni. 82 anni, sì. Perfetto, quindi è una impresa di famiglia nel vero senso della parola. Poi una cosa che ci è sempre piaciuto, che comunque nonostante l'evoluzione della zona, nel bene e nel male, comunque le langhe si sono molto evolute, cambiate in questi ultimi vent'anni. Voi siete sempre rimasti con i piedi per terra, lavorando sodo in vigna e comunque tenendo dei prezzi comunque molto ragionevoli, così i vini sono anche accessibili a, diciamo, i comuni mortali e questo ovviamente è un pregio per... Ci accontentiamo, ci accontentiamo. Non vogliamo... Noi ti dico, cosa dico anche a tanti miei clienti o anche a tanti miei amici, dico il vino è un prodotto che deve essere consumato, deve essere consumato nell'anno perché tutti gli anni abbiamo la vendemmia e tutti gli anni dobbiamo venderlo. Cioè, forse è un prodotto che dice, vabbè lo produco ogni cinque anni, praticamente i cinque anni per gestire la situazione, ma tutti gli anni devi venderlo, di conseguenza devi trovare un po' un compromesso tra la qualità, le vendite e il prezzo. Noi cerchiamo sempre di lavorare al massimo, di dare sempre il massimo e di avere sempre i prodotti che convincano in primo me, perché io devo essere convinto del prodotto che mettono in vendita perché se non sono convinto non sono contento del lavoro che faccio. Il prodotto che voglio vendere deve essere prima di tutto mio e poi deve anche piacere ai clienti. Perfetto, ovviamente questo è molto anche logico come filosofia produttiva. Ci sono delle novità particolari in questo anno un po' difficile o strano, diciamo? La novità è che sì, abbiamo avuto un campiere aperto per un paio d'anni, abbiamo fatto un bellissimo terrazzo che forse tu non hai ancora visto, sul terrazzo che avevamo abbiamo fatto un altro terrazzo, più in alto ancora, e la nostra idea era di fare le serate un po' a tema, le degustazioni serali all'alberto, coinvolgendo anche degli amici come potete essere voi anche altri amici per organizzare una serata ma non promozionale, conviviale, e poi semmai anche coinvolgere qualche chef che ha voglia di preparare un piatto particolare o due piatti particolari e farci, passarci una serata con 10, 15, 20 persone non esagerare, cioè non affollato il terrazzo ma da fare una cosa un po' particolare da bersin, delle belle bottiglie ed essere ricordato. questo evento poi organizzato una volta a settimana una volta al mese questo era ancora da decidere però fare una cosa un po' particolare che forse tanti lo faranno già però su questo terrazzo che è un po' un balcone sulle vini è un po' un balcone sull'alberto. Infatti era bello già il terrazzo prima se questo è ancora superiore in termini di vista di questo di questo diciamo problema che è uscito con questo virus ha bloccato un po' tutto il mondo sia come turismo soprattutto che come modo di fare e pensare adesso speriamo che col tempo si vada a finire però siamo sempre ci speriamo sempre di fare questa idea studiata bene di poterla eseguire siamo convinti che prima o poi anche questa questa cosa passerà e si deve riprendere un po' il turismo e l'anga chi viene consigliamo sempre anche Guido Porro come indirizzo sia per dormire che per conoscere il Barolo di Seralunga che è sicuramente un ottimo indirizzo e noi ci ricordiamo con molto piacere la serata che avevamo fatto sul vostro vecchio terrazzo in occasione del lancio della prima nata del Vigna Ionda che è stato molto molto bello è stata il 21 luglio del 2018 l'unico giorno l'unico sabato sera che ha fatto un temporale della Madonna è stata quella sera se vi ricordate questo è vero siamo stati bene lo stesso sotto coreograficamente se avesse fatto una serata normale c'erano delle sorprese bellissime tra l'illuminazione dei vignetti della vallata che abbiamo fatto tra il paesaggio tra le luci era qualcosa di spettacolare però è andata è andata il buon dia ha voluto che andasse così è andata così va benissimo anche così la serata è stata bella tra amici spero che tutti siano stati contenti ma sentendo le voci sembra di sì speriamo di ripeterla con il nuovo terrazzo ma sì dai appena finita questa fase torneremo e infatti non vediamo l'ora di tornare a trovarvi di persona io ti ringrazio per questa chiacchierata e appunto spero di venerci presto dal vivo in azienda ho fatto molto piacere anche a me speriamo sicuramente ci ritroveremo non così ma di persona perfetto grazie Guido grazie a te grazie a te